Sono molto felice per essere qui, secondo me non è una società, è una famiglia, questo è molto importante per me, la squadra lavoriamo ogni giorno per essere pronti per la prossima sfida, andiamo! Con Casale adesso, che è una delle formazioni insieme a quelle che abbiamo già affrontato, delle più forti del campionato, come ci si prepara ad una sfida del genere? Per me è per noi, dipende da quello che facciamo noi, a Casale c'è una difesa dura, con un campo molto caldo, ma lavoriamo ogni giorno, duro, per essere pronti e ci vediamo cosa succede domenica. L'abbiamo sognato, era uno dei top player che serviva per cambiare le sorti di una stagione sfortunata dal punto di vista dei risultati, perché 4, 5, 6 partite le abbiamo giocate fino al quarantesimo e poi ci sono sfuggite per dei particolari, degli episodi, per delle disdette e quindi serviva un giocatore che sapesse prendere in mano la squadra nei momenti decisivi. Mike Caller era il profilo giusto, speriamo che lo confermi nelle prossime giornate. Stiamo vivendo sicuramente una gioia con l'aiuto di Mike e con l'arrivo di Mike e una boccata di ossigeno, non semplice in un momento in cui veramente l'ossigeno è mancato, non soltanto per le sconfitte ma anche per come sono maturate alcune sconfitte di un punto, di due punti, confischi particolari, insomma in situazioni davvero discutibili. E questa situazione purtroppo sta continuando. Ho chiesto a chi di dovere un incontro, un colloquio, spero che me lo riservi quanto prima, perché vanno chiarite determinate cose, ci sono troppe anomalie nel sistema e queste anomalie vanno corrette. Una rondine non fa primavera, abbiamo vinto una partita ma la nostra strada è ancora lunga ed è tutta in salita, quindi impegno, lavoro e grande umiltà. Grazie.